Ciao, mi fa piacere che tu ci abbia cercato per questa intervista. Enzo è un mio carissimo amico da sempre ed oggi anche assieme facciamo delle cose importanti che fanno la felicità e creano, danno un sorriso alle persone. E cosa dire, Enzo è venuto qua insieme anche al mio caro amico Vranno Giorgi per l'apertura di questo atelier che è dedicato prima di tutto a mio padre perché era un sogno suo aprire qualcosa di nostro con Enzo in centro da Portogluaro e pertanto Enzo è venuto a partecipare a questa piccola ma emozionante manifestazione. Beh, emozionante sicuramente perché le basi su cui si fonda l'idea per questo progetto sono basi solide, quelle dell'amore per la famiglia e soprattutto per un genitore che ha dato a massimo indicazioni importanti insomma per la sua vita, indicazioni che lui ha seguito e che si concludono con la concretizzazione di questo progetto del quale io sono onorato di un piccola parte, di far parte e di condividere proprio per l'affetto, per l'amicizia con Massimo e per la stima ma anche nel ricordo del papà di Massimo che era un mio estimatore e che mi voleva bene, anche non solo come cantante ma anche come voi. Grazie davvero e speriamo sicuramente di dare vita a un grande successo. Grazie a lei. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.